Teatro, musica, circo, installazioni, laboratori, queste altre ancora e sceniche, il festival delle arti in scena presentato oggi nella Sala degli Specchi di Palazzo Iacono dal sindaco Giuseppe Nicosia e dal direttore artistico del festival Andrea Burrafato. Il viaggio immaginario dell'ape Carretto, mascotte e simbola del festival scenica, continua e dal profondo del mare ora viene restituita alla terra in una perla, una collana di perle. Infatti simboleggia questa quinta edizione di scenica come le perle che l'associazione Santa Briganti è riuscita a portare a vittoria. Tante le novità di questa edizione a cominciare dal doppio weekend. Innanzitutto quest'anno il festival si divide su due weekend, non più su uno solo. Infatti giorno 4 faremo un'anteprima con uno spettacolo che si chiama Parole Sassi, l'antigone raccontata ai bambini. Spettacolo importante che coinvolge tutta l'Italia attraverso 18 attrici selezionate, una per ogni regione. Le porteremo chiaramente l'attrice selezionata per la Sicilia che porterà al Castello Enriquez, quindi in una location meravigliosa. Questo spettacolo per bambini in cui si racconta il dramma di Sofocle. Poi si prosegue con il fine settimana successivo con il momento proprio intenso di proposta, con spettacoli, concerti, laboratori e residenze creative. Per il sindaco Giuseppe Nicosia il festival scenic è uno dei momenti culturali più qualificanti. Un appuntamento d'eccezione, il festival secondo me per eccellenza che alimenta e popola il centro storico. Si incastona tra la settimana della cultura, i percorsi di legalità e il festival jazz, curato benissimo dall'associazione Santa Briganti che è una realtà, è una fucina incredibile di idee e di proposte che si radicano sempre più nella città. Sono stracontento che i migliori edifici del centro storico e il centro storico ospiti anche per quest'anno Scenica 2013. Grazie.